chi vuol provare? comunque le esecuzioni erano giuste, adesso io le versette non ve le ho contate a casa, se avete la possibilità, allenatevi sulle once comunque è bello fare tutto, però quello che poi importa è io te lo faccio, te lo mando, se non lo vuoi fare ti inquadro per metà, dai ti inquadro per metà, se non lo vuoi fare, se non lo vuoi fare